va lì? si vai qualcosa si sente ogni tanto eh? va buona è strano poca visibilità non è strano costi sì che non vanno e la volta riesco a fare un film decente che ti sto dietro come pare che vai velo veloce guarda cosa dica ripida qua mi sa che l'unica a tirare giù la sciolina a mettere di nuova non è una cosa che possiamo fare adesso a prestarti via a trazar il film si ma niente rispetto a quelli del country devo stare un po' in mezzo a presto a presto a presto bellissima proprio no nel bosco è la più bella però eh sì guarda che pelato che è su al da tutta la gente che è venuta qua nessuno ha usato la Valmalega ah 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 Devo rallentarti di sempre per fare un bel film. Sì, si sono venuti giù la padicola, non so dirti, probabilmente te lo vedo sul fianco del canale è meno pericolosa. Entra un po'. Per fortuna! Mi sembravano fatte ma... Eeeh, che tradimento di frusta! Sì, si va giù benissimo! Sì! Non è la stessa esposizione di quello che ha sbalangato lì, però là sono sassi! Io fossi da solo e sarei andato là! Ok, faccio l'urlo semmai! Ok, faccio lì! Ok, faccio lì! E' insomma un paio di sassate! Io sì, da dire che fortuna che hanno preso i bond! Passiamo la destra! Ok, faccio lì! Mi pare di ricordarvi sì! Mi pare di ricordarvi sì! Ok, faccio lì! Ok, faccio lì! Sì, faccio lì! Sì! 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 Vai tu che riprendo! Sì! 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 Con la ruta siamo andati su a quella sella là! siamo gli sposa! Sì! Grazie a tutti. Ho fortuna che hai le gambe che devono farsi. Penso che sia questo qua, quello della valle. Si, è proprio quella. Che si manda su anche in vice, è la maledra. Io di più che in su. Stavo considerando che con gli altri non faccio fatica in giù. Perchè avevo più gambe di loro. Con te invece anche se non hai gambe. Perchè avevo più gambe di loro. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 non lo stesso con così tanta nere forse no sono un po' di ontani che insomma la Val Maleda sarebbe una discesa da primavera da inverno quello lì è l'altro che diceva Cioffi vedi che là giù dal Montesole è dritta bellino no? servissimo le pelli elettriche non lo stesso ma non lo stesso e ho da un po' di niente Grazie a tutti. Allora, mi sa che si può venire su domani col Claudio. Se tu sai mai sei libero all'8.30. Allora, se portiamo il Claudio andiamo a fare una roba più tranquilla. Appena appena. A sicuro. Allora. Allora.